buonasera a tutti buonasera buonasera a tutte le persone che sono già dentro il webinar buonasera sono marco martire il country manager di purple training benvenuti a questa seconda edizione questo secondo episodio di questa serie di webinar con trading facile ed è qui con noi nuovamente filippo giannini ciao filippo mi senti buonasera marco buonasera a tutti eccoci qui allora filippo di nuovo secondo webinar dopo il grande successo del primo intanto saluto già le persone presenti saluto raffaele saluto federico saluto lucio spero che l'audio sia buono spero che mi sentiate chiaramente nel caso in cui ci fossero bene fateci sapere in chat ad ogni modo secondo webinar il primo avevamo fatto un webinar molto interessante sulla strategia che utilizza filippo sul dax ricordo a tutti poi nel caso metterò anche il link qui per chi se lo fosse perso ma darò il link adesso e in in chat ovviamente e adesso parliamo oggi invece dei cinque requisiti per costruire una strategia di trading di successo sul forex quindi intanto filippo lascio a te la parola in questo caso poi dopo faccio una presentazione del broker per le persone che non ci conoscono in modo tale che comunque siamo tutti sulla stessa come si suol dire la lunghezza d'onda sì perfetto grazie mille marco di nuovo insomma ecco ben trovato ben trovati tutti coloro che sono con noi questa sera e sì dopo appunto il webinar dell'altra volta del primo appuntamento diciamo ecco di questa partnership che abbiamo attivato con estremo piacere personalmente tra trading facile parpol trading primo evento dedicato al dax evento che ha riscosso tantissimo successo tra l'altro poi marco vi metterà anche il link per rivedere il il webinar anche per capire un po la logica operativa di questa strategia sul sul dax che continua insomma anche nell'ultimo periodo a dimostrarsi molto robusta e che poi insomma lo ripeteremo è ottenibile appunto gratuitamente da tutti coloro che ne faranno richiesta per questo insomma trovate i contatti sul nostro sito potete scrivere a info chioccio la trading facile punto net oppure c'è anche la mia mail che poi vi vi mostrerò che è filippo chioccio la trading facile punto net dove potete appunto scriverci per conoscere tutti i dettagli e poter quindi aderire all'operazione sì tema di oggi invece il mercato del forex mercato molto amato da da tutti da tutti i trader mercato che però presenta insomma delle delle insidie e quindi oggi cercheremo un attimino di fare il punto della situazione su cosa conta e cosa non conta quando si va ad approcciare questo tipo di mercato e quindi insomma spero che l'evento di oggi sia altrettanto interessante perfetto filippo sicuramente lo sarà chiaramente i contatti di filippo adesso li lascerà lui e da ogni modo lascerò anche la parola a lui breve presentazione del broker perché magari sono persone che ancora non ci conoscono chi è purple trading purple trading attualmente per il terzo trimestre consecutivo in europa è il broker leader per il numero di clienti redditizi questa è una cosa di cui andiamo fieri di cui vogliamo chiaramente farlo presente a tutte le persone anche ai nostri clienti ovviamente quindi secondo i dati esma attualmente purple trading è leader in questo settore e in questo questa bellissima classifica diciamocelo allora chi è purple trading è un broker stp puro quindi non siamo un broker market maker non vi è alcun conflitto di interessi con i nostri clienti non facciamo da controparte non guadagniamo sulle vostre perdite quindi quello che cerchiamo di dare è sempre un'esecuzione rapida ed equa degli ordini con uno slippage chiaramente positivo i dati dicono 80 per cento dello slippage positivo 20 per cento addirittura un prezzo migliore ciò significa che veramente cerchiamo di stare sulla stessa barca come si suol dire quindi protezione del saldo negativo ovviamente siamo in europa siamo sotto l'esma siamo un broker regolamentato deve essere per forza così benvenuti tutti i clienti profittevoli cerchiamo di migliorare ancora di più questi dati che sono sempre quelli più importanti andiamo a vedere le piattaforme di purple trading piattaforme che sono la mt4 ovviamente e la c trader nella mt4 c'è anche un discorso di copy trading quindi con le strategie pam e ovviamente abbiamo anche un discorso di etf invece per quanto concerne persone che invece vogliono fare trading più che altro passivo insieme al copy strumenti gli strumenti che utilizziamo sono fondamentalmente il forex le materie prime gli indici azionari con micro lotti le criptovalute l'azionario cfd americano i future cfd e poi abbiamo anche i nostri indicatori purple che potete tranquillamente provare in maniera totalmente gratuita sui nostri conti demo canale telegram dedicato quindi ogni giorno sono analisi chiaramente di mercato che vengono messi articoli tra l'altro verrà messa anche lì la registrazione del webinar di oggi con filippo quindi ovviamente canale telegram dedicato metterò tutte queste queste informazioni all'interno della chat quindi se volete poi oltre ai miei dettagli saranno anche i link diretti per quanto concerne poi le ultime cose che volevo dire chiaramente abbiamo la possibilità anche del copy trading abbiamo detto prima di essere i fornitori di strategie nel caso in cui voi abbiate una vostra strategia potete tranquillamente pubblicarla su nostro sito siamo noi che abbiamo la licenza di portfolio management e siamo noi che quindi assumiamo la tale responsabilità e facciamo da ombrello tra clienti e strategie provider ultima cosa ovviamente anche il programma di introducing broker inoltre per le persone che chiaramente sanno nel caso noi stiamo facendo una partnership come abbiamo detto con trading facile ci sarà per coloro che vogliono chiaramente aprire un conto fino a in questo caso questa immagine perdonatemi è vecchia era fino al 30 novembre ma questa immagine rimane valida fino al 31 dicembre ovviamente chi vuole aprire un conto prime con noi ottenere già lo status prime non c'è alcun deposito minimo può direttamente iscriversi e può direttamente quindi creare il proprio conto questi sono i miei dettagli li lascerò adesso anche in chat per coloro che invece stanno guardando la registrazione ovviamente potete vi saranno inviata la registrazione quindi saranno inviati anche tutti i dettagli lì non ci non ci sono non c'è nessun problema ovviamente nel caso in cui vogliate scrivermi un email o chiamarmi sono qui a disposizione per voi come sempre Filippo adesso lascio a te la parola lascio a te ovviamente anche la presentazione tutto il resto per qualsiasi cosa ovviamente sono qui la mia prima domanda che ti vorrei fare dato che ieri è stata una bellissima o forse una giornata abbastanza movimentata come vedi i mercati in questo momento dato che comunque oggi si parla di forex quindi penso che ci sono molte molte domande anche su questo ecco sì assolutamente sì allora giusto un attimo volevo condividere il mio schermo così possiamo anche andare direttamente sulla sulla piattaforma ok magari datemi un feedback dovremmo vediamo dovremmo ora essere sulla sulla piattaforma di di purple ok mi confermi marco che confermo confermo vedo tutto quanto perfettamente quindi almeno io vedo vedo anche che federico ci dice che vede perfettamente quindi perfetto ok ma allora come vedo i mercati ma allora bisogna un attimino secondo me scindere un po diciamo ecco la situazione sulle sulle diverse asset class perché perché ad esempio per quanto riguarda l'euro dollaro vedo chiaramente l'euro in questo momento diciamo ecco con una buona forza relativa abbiamo avuto un un periodo diciamo ecco un pochino un pochino turbolento perché nelle ultime nell'ultime sessioni insomma ecco la volatilità è un pochino mancata c'è stato anche questo falso breakout però dopo diciamo ecco dopo i dati di ieri in particolare sull'inflazione americana che di fatto no hanno un pochino smorzato gli animi su quelli che sono i timori circa una una stretta della fed più vigorosa del previsto tra l'altro oggi diciamo ecco poca volatilità per per il momento per quanto riguarda i mercati americani perché stasera sappiamo ci sarà la la decisione della fed sul prossimo aumento dei dei tassi di interesse però chiaramente ecco il fatto che ieri l'inflazione l'inflazione usa si sia attestata al di sotto delle attese eh di fatto ha ha giovato all'euro perché perché appunto in questo momento vengono meno i timori per una stretta più aggressiva stretta più aggressiva che invece avrebbe di contro favorito il il dollaro sappiamo insomma ecco che in generale eh una valuta tende ad apprezzarsi quando aumentano i i tassi appunto di di interesse eh che riguardano chiaramente la la valuta stessa e quindi in questo momento diciamo ecco il il mercato tende a apprezzare anche in virtù di quello che eh abbiamo visto a partire da da fine settembre quindi con questa eh inversione di fatto no che c'è stata si vede molto bene qui siamo sul sul daily si vede molto bene il completamento di questo modello a doppio minimo decrescente quindi no completato con con questo breakout di quota zero novantanove e sei all'incirca poi classico pullback e da qui eh stiamo andando diciamo ecco eh più avanti secondo me qui eh se dovessi anche azzardare quella che è una una previsione magari qui possiamo anche aiutarci con eh una una trend line eccola qua eh andando a da identificare insomma ecco quella che potrebbe essere una proiezione dettata da dalla prima gamba eh rialzista magari prendiamo non quella che eh arriva quella che parte dai minimi ma eh la prima gamba proprio di espansione vera e propria del trend eh e andando poi a proiettarla al di sopra di questo di questo minimo di swing abbiamo un obiettivo secondo me eh ragionevole non per la fine dell'anno considerando insomma che eh la volatilità attuale sta un pochino in generale scemando ma questo poi lo vedremo più in dettaglio eh però secondo me un target potrebbe essere io velocemente mi presento io sono un ingegnere sono socio professional di SIAT la società di teleanalisi tecnica eh faccio trading ehm dal 2010 dal 2014 faccio parte appunto di di trading facile eh ci occupiamo di ideare sviluppare e distribuire trading system automatici quindi tutto il nostro eh focus riguardo al trading è appunto incentrato su un'operatività di tipo eh algoritmico eh tutti i nostri trading system o almeno una buona parte perché poi non ci sono neanche tutti ma li trovate su www.tradingfacile.eu mi raccomando eh seguiteci se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale eh YouTube eh pagina Facebook e canale Telegram aiutateci a far crescere la nostra eh community poi trovate insomma eh qui sulla sezione eh trading system trovate anche insomma ecco quelle che sono le eh le nostre eh promozioni e anche appunto in virtù della eh partnership che c'è con eh Purple Trading la promozione che vi permette di eh ottenere appunto una eh licenza eh di uno dei nostri trading system per tre mesi in omaggio alla fine quindi passiamo subito al tema di oggi ovvero i cinque requisiti per costruire una strategia di trading di successo nel nel Forex e quindi eh vedremo sostanzialmente quelle che sono le caratteristiche di base di questo mercato ma poi soprattutto i eh requisiti da conoscere quindi cosa tenere in considerazione e cosa no cioè cosa funziona e cosa eh non funziona nel nel trading sul Forex vedremo alcuni eh diversi tipi di eh approcci eh diciamo operativi strategie che chiaramente diciamo ecco usiamo eh tutti i giorni e poi chiaramente c'è sempre spazio per domande e conclusioni quindi anzi vi invito a utilizzare eh appunto la chat eh se avete domande appunto il il confronto è sempre è sempre ben accetto quindi innanzitutto eh quali sono le caratteristiche di base di questo mercato? Allora è un mercato eh che eh generalmente è continuo sulle 24 ore quindi eccetto diciamo ecco delle delle candele daily un pochino ridotte magari ecco in prossimità delle festività come peraltro accadrà anche eh anche appunto sotto Natale però generalmente il grafico del Forex è un grafico eh che è continuo sulle 24 ore perché perché il Forex è è aperto appunto in negoziazione continua. Questo che cosa significa? Significa che ad esempio eh non si non eh si possono usare le strategie in gap a meno di eh riuscire a lavorare appunto su dei gap che vengono aperti tra la sessione del venerdì tra la chiusura del venerdì e quella del lunedì però diciamo ecco che magari tutte quelle belle eh strategie per sfruttare i gap che trovate scritti su sui libri di analisi tecnica trovano una difficile. Alzi la mano se c'è qualcuno che conosceva questo tipo di di distorsione eh sul Forex o se ha mai pensato che potesse esserci all'interno di questo mercato una una distorsione così potente. Veramente interessante questa come slide perché sinceramente neanche io sapevo bene di questa cosa quindi confermo. E io vi posso assicurare che se da domani incominciate a guardare il grafico dell'euro dollaro ma poi qui dico euro dollaro ma poi qui ci sono tutte le coppie major e andate a vedere qual è il movimento statistico medio che il mercato fa voi vi accorgerete di quanto è potente questa distorsione. Ve lo posso assicurare anche perché è uno dei principi su cui fondiamo eh uno dei concetti base su cui eh fondiamo le strategie sistematiche sul Forex. Tra l'altro qui una cosa ancora più interessante che se voglio andare a vedere questo bias un pochino più nel dettaglio io faccio clic su questa lente in basso, tolgo il separate weekdays, faccio get results e qui sostanzialmente ho l'andamento mediato sulla singola sessione. Ok? Qui si vede ancora meglio. Quindi che cosa significa? Che anche con una approssimazione importante perché qui va di 15 minuti in 15 minuti, quello che osserviamo è che vedete che il mercato è Forex e l'euro dollaro è un mercato che tende a salire, a registrare un massimo dopo.